Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi parlerò del progetto Omnity raggiungibile al sito Omnity.io. Il motto di Omnity è conoscenza connessa. Questo perché Omnity si pone come obiettivo quello di trovare un significato condiviso tra i vari documenti rilevando modelli simili di parole rare, combinando l'elaborazione del linguaggio naturale, l'apprendimento automatico, la matematica dei grafi e la blockchain. Nel resto del video vi parlerò dei campi di applicazione di Omnity, di come poter effettuare una ricerca all'interno del portale Omnity ed in particolare dell'SEO di Omnity. Seguitemi. Il primo campo di applicazione di Omnity è la finanza, ovvero trovare l'investimento giusto in maniera veloce. Omnity consente a professionisti dell'investimento di tutti i tipi di individuare in modo rapido ed efficiente opportunità di investimento nascoste di alta qualità. Omnity consente inoltre di conoscere in tempo reale insiemi di documenti complessi in modo che i professionisti del settore possano rispondere ad una vasta gamma di domande. Un altro campo di applicazione di Omnity è la giustizia. Tramite Omnity è possibile da parte di professionisti legali di rilevare in modo rapido ed efficiente schemi altrimenti occulti di interconnessioni di documenti pertinenti di procedimenti legali o contenziosi. In altre parole, Omnity consente di ottenere informazioni in tempo reale su un set di documenti complessi in modo che i professionisti legali possano rispondere ad una vasta gamma di domande. Un altro campo di applicazione di Omnity non meno importante degli altri è quello della ricerca. Tramite Omnity è possibile infatti ai professionisti della ricerca e dello sviluppo di rilevare in modo rapido ed efficiente schemi di interconnessione rilevanti tra i vari documenti. Che si tratti di una ricerca base o sviluppo di prodotti avanzati, tramite Omnity è possibile approfondire in tempo reale insieme di documenti complessi consentendo ai vari professionisti della ricerca e dello sviluppo di rispondere in modo efficiente e sistematico ad un'ampia gamma di domande. Torno ora al sito di Omnity perché voglio mostrarvi come poter effettuare una ricerca all'interno del portale. Dopo aver effettuato la login, io l'ho già fatta, vi troverete all'interno di questo app dashboard. Potrete effettuare un drag and drop di un documento oppure cliccare e selezionare il tipo di documento che si può ricercare. Nel frattempo che finisce il processamento delle 6803 parole contenute all'interno del documento, vi dico che è disponibile un'estensione di Omnity per Google Chrome, raggiungibile a questo link. ok, ha finito il caricamento, qui trovate tutti i vari patent di ricerca, ad esempio blockchain, cryptocurrency, bitcoin, eccetera. Il documento era un documento riferito alle criptovalute. Potete, cosa interessante di Omnity, visualizzare i risultati per rilevanza, qui vi trovate il grafico di tutte le parole contenute all'interno del documento. Concludo il video parlandovi dell'ICO lanciata da Omnity. Potete pre-registrarvi al momento perché a breve sarà lanciata la private sale. Se vi recate su omnity.io slash ICO, qui trovate tutte le informazioni in merito. Il finanziamento pre-ICO è di 9 milioni di dollari, l'hard cap è fissato a 50 milioni di dollari. A cosa servono i token di Omnity? I token potranno essere utilizzati per avviare bot di individuazione all'interno della piattaforma oppure per essere utilizzati per personalizzare documenti di grandi dimensioni. Comunque vi invito a visionare il whitepaper di Omnity dove all'interno trovate tutte le informazioni riguardanti il token alla pagina 1922 ma anche il modello di revenue. Il mio video su Omnity finisce qua. Vi ringrazio per la visualizzazione. Se il video vi è piaciuto mettete un like e sottoscrivetevi al canale. Ciao!